A casa, con un messaggio WhatsApp, accade anche questo nel mondo del lavoro odierno. La storia la raccontano alcuni operai della Hell Foundry di Avezzano che hanno ricevuto sul proprio smartphone un laconico fermato. Modalità, forma e sostanza della comunicazione vengono contestate dalla FIOM provinciale dell'Aquila che sottolinea come il combinato disposto delle leggi, cioè del decreto dignità e delle strategie aziendali faccia sì che un esercito di lavoratori e di annesse famiglie debba periodicamente subire un danno materiale e morale. Del 6 settembre è scaduto il mio contratto e credevamo che si abbassava la produzione e invece siamo stati sostituiti da altre tante persone che hanno preso il nostro posto e fra parentesi qualche personale gli ho insegnato io il lavoro che doveva svolgere. L'azienda ha risposto che i contratti erano scaduti e che quindi non ha alcun fondamento parlare di licenziamenti spiegando anche come l'Agenzia per il lavoro abbia correttamente illustrato anche per via telefonica le 27 persone interessate quanto stava accadendo sulla base della normativa ora vigente. La Hell Foundry attualmente impiega 1500 dipendenti a cui si aggiungono alcune centinaia di persone dell'indotto. Tra queste vi sono diverse decine di operai che hanno un posto di lavoro temporaneo dettato dalle esigenze di produzione. Non è contro l'azienda né contro l'Agenzia perché noi sappiamo innanzitutto la stima che loro hanno nei nostri confronti e questo qua ce lo hanno anche specificato. L'azienda comunque opera secondo la legge, questo lo sappiamo e vogliamo proprio far capire che questa legge dovrebbe avere una qualche piccola modifica perché questa legge è scritta in questo modo che ha fatto sì che noi stessimo a casa. Ad oggi siamo stati mandati a casa noi che siamo i primi che avevamo un'anzianità maggiore all'interno dell'azienda. Il 27 saranno mandati a casa un secondo turno di lavoratori che sono stati assunti dopo di noi e dentro il 31 ottobre per quel che si dice ma penso di poter non essere smentito purtroppo saranno mandati a casa tutti i lavoratori assunti prima del 2018 così che l'azienda arrivi tra virgolette vergine al 31 ottobre il giorno nel quale scatterà il decreto dignità.